Seguire passo dopo passo il restauro del mammut dell'aquila conservato nell'ala est del bastione del forte spagnolo. Il progetto è online sul sito del museo che ospita questo enorme fossile di scheletro appartenuto ad un maschio adulto del peso di 10 tonnellate. Il recupero e il progetto del nuovo riallestimento multimediale della sala che ospita il bestione preistorico sono stati resi possibili grazie ad un consistente donazione della Guardia di Finanza.